Operazione abbastanza pesante, Albano si lascia andare su Romina Albano è un artista nostrano tra i più conosciuti e amati dai fan che ne hanno seguito la carriera nei vari decenni Ma che cosa ha detto? Esattamente sulla sua ex Romina Power? Di recente Albano ha aggiornato il suo seguitissimo profilo Instagram con una notizia riguardante Romina Power che ha fatto preoccupare i followers Ma che cosa ha dichiarato? Esattamente? Albano? Si lascia andare su Romina Power Albano è un cantante che non ha rivali nel panorama musicale nostrano La sua infatti è una carriera iniziata più di 50 anni fa e andata avanti costellata sempre da grandi successi Per buona parte del suo cammino è stato affiancato dall'ormai ex moglie Romina Power Con cui ha firmato intramontabili hit come Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci Sarà, Che Angelo Sei e tante altre In uno dei loro ultimi album insieme hanno collaborato persino con la celebre soprano Montserrat Caballet Il sodalizio artistico è terminato nel 1995, in parallelo con la profonda crisi che li ha portati poi al divorzio In seguito lui ha proseguito come solista partecipando anche al Festival di Sanremo l'anno successivo Nel 2020, insieme a Romina ha nuovamente partecipato al Festival di Sanremo e, sempre quell'anno, con la partner musicale è comparso come ospite fisso ad amici e ha preso parte come giudice Insieme alla figlia Jasmine, a The Voice Senior La sua ultima fatica, è stata ballando con le stelle. Dove ha dato prova delle sue doti di ballerino Sempre con la sua ex avrebbe dovuto tenere dei concerti. Ma si è verificato un imprevisto Ecco cosa è accaduto. Un po' di timore per lei Ultimamente Albano è comparso sulla sua pagina Instagram per annunciare che il concerto che avrebbe dovuto tenere il prossimo 20 maggio, data del suo compleanno, a Sofia, è stato rimandato Il motivo, purtroppo, riguarda le condizioni di salute dell'ex moglie Romina ha dovuto fare un'operazione abbastanza pesante alla gamba, ha dichiarato il cantante, precisando che l'attrice ne avrà per altri 4 o 5 mesi, ma che l'importante è che si riprenda completamente L'evento si svolgerà invece l'8 novembre e l'artista ci ha tenuto a precisare di avere fame di spettacoli. Soprattutto dopo la lunga pausa determinata dal Covid A parlare per prima del ricovero della madre, circa una settimana fa, era stata la figlia minore. Romina Junior che aveva raccontato come fosse andata a trovare la donna che si stava già dedicando alla riabilitazione